CCS, Carbon Capture and Storage. Cattura e stoccaggio della CO2. Sono tecnologie estremamente complicate per prelevare l'endite carbonica dall'atmosfera e rimagazzinarla nel sottosuolo. A livello teorico si prevede che queste tecnologie abbiano un enorme impatto sulla riduzione cumulativa delle quantità di CO2 presenti nell'atmosfera. A livello reale però in realtà non possiamo fidarci più di tanto perché di tutti i progetti sviluppati nel mondo e presenti in funzione nel mondo non ce n'è uno che si sia neanche lontanamente avvicinato ai target teorici di riduzione di cattura della CO2 che si erano prefissati e questo a fronte di costi estremamente alti. In più c'è il problema che spesso la CO2 immagazzinata viene utilizzata per portare a pressione dei giacimenti di petrolio nel sottosuolo e aumentare diciamo le estrazioni vere e proprie quindi non è più di tanto una soluzione valida per la nostra decarbonizzazione.